Il prossimo 30 settembre il Parlamento europeo è chiamato a votare la riforma della PAC, la politica agricola comune. A darne notizia è stato il presidente Paolo De Castro in occasione della visita a Lecce con una rappresentanza della Commissione Agricola per lo Sviluppo Rurale del Parlamento europeo. Per l'Italia rappresenta 6 miliardi di euro di aiuti all'anno, 6 miliardi di euro in questo momento di difficoltà economica, assicurare 4 miliardi di euro all'anno di sostegno al reddito degli agricoltori e 2 miliardi per i piani di sviluppo rurale sono risorse importantissime che non solo non possiamo perdere ma magari possiamo spenderli meglio, trezzare meglio. Lecce, come tutte le città del Mezzogiorno, vive il suo momento di crisi. Cultura, turismo e agricoltura, queste le variabili di un territorio che mira a diventare meta turistica, non solo come luogo da visitare ma anche come esperienza da vivere. La bellezza dei nostri monumenti, dei nostri palazzi, delle nostre chiese ma anche la capacità della terra, della terra del Salento di essere anche momento di attrazione. Turismo, cultura e agricoltura sono per noi fortemente legati. L'ONU ha dichiarato il 2014 anno dell'agricoltura familiare, un'occasione imperdibile per una terra come la Puglia che vive di agricoltura e votata all'agricoltura e che dell'agricoltura vuol fare il suo punto di forza. Gli agricoltori si devono organizzare meglio perché è evidente che per vincere la sfida del mercato bisogna essere organizzati, organizzati in consorsi, in cooperative, quindi forme di sostegno affinché gli agricoltori si attrezzino, si organizzino insieme. Specie noi nel Mezzogiorno ne abbiamo bisogno perché come è noto noi nel Sud abbiamo una vocazione individualista più forte, più marcata di quanto non sia in altre aree del Paese per cui saranno aiuti importanti per far nascere le OP, le organizzazioni di produttori per stimolare gli imprenditori a mettersi assieme.